buon poveriggio a tutti è domenica 10 giugno sono le ore 17 in punto quindi cominciamo questa diretta in perfetto orario in orario domenicale io sono tra l'altro in questa postazione dalla quale sapete potrebbero scendere dei gatti un gatto una gatta adesso vedremo come va e la puntata di oggi diciamo così la diretta di oggi sostanzialmente sarà sarà monotematica io peraltro vi ricordo sempre per favore di condividere il video quindi pigiate lì sotto su condividi in modo tale che allarghiamo un pochino il giro delle persone che ascoltano queste dirette e dicevo sarà una diretta monotematica perché in realtà direi che quest'oggi il piatto forte della giornata è sendo poi domenica quindi una giornata abbastanza tranquilla sul piano politico però c'è un'intervista estremamente interessante rilasciata dal neoministro dell'economia Giovanni Tria al Corriere della Sera a Federico Fubini dico subito che un'intervista estremamente interessante perché anzi devo dire forse l'aggettivo esatto non è interessante che l'intervista è spiazzante è spiazzante perché a leggerla sostanzialmente pare Padoan nel senso che le dichiarazioni di Tria a Federico Fubini sono dichiarazioni di estremo buonsenso di grande prudenza di appunto di un ministro dell'economia con la testa sulle spalle e però il problema politico vero è che sulla base delle indicazioni di Tria rilasciate appunto le dichiarazioni rilasciate a Federico Fubini davvero non si capisce come il programma elettorale di Lega 5 Stelle e lo stesso programma indicato dal Presidente Conte alla Camera e al Senato possa essere effettivamente realizzato è una sorta di sfasamento dei piani temporali che credo abbia colpito tutti quelli che hanno letto questa intervista ripeto se non l'avete letta ancora è sul Corriere della Sera di oggi ma io ho preso qualche appunto perché non voglio perdermi diciamo nessun passaggio e parto già dal fatto che il titolo appunto che il Corriere della Sera sceglie è l'economia italiana è forte adesso più deficit meno deficit e più investimenti l'economia italiana è forte è già una cosa forte da dire da parte del ministro del ministro Tria è sostanzialmente un riconoscimento del fatto che il lavoro compiuto dai governi precedenti è stato un buon lavoro che abbiamo lasciato loro in mano un'economia solida Tria dice abbiamo uno degli avanzi primari più alti in Europa abbiamo una posizione finanziaria in equilibrio abbiamo un importante avanzo commerciale dice i fondamentali dell'economia italiana sono solidi sono forti e come dire è piacere sentirlo dire dal ministro del governo cosiddetto del cambiamento che quello che hanno ricevuto è un'economia in buona salute e dice attenzione per quanto riguarda l'euro la posizione del governo è attenzione virgolette la posizione del governo è netta ed è unanime sul fatto che non si debba uscire dall'euro posizione netta e unanime poi dice che per quanto riguarda la legislazione pensionistica può essere migliorata ma questo andrà fatto sempre tenendo conto della sua sostenibilità finanziaria quindi alto là alla riforma fornero evidentemente perché diciamo questa risposta indica che prima di appunto di mandare all'aria una riforma che comunque ha assicurato la sostenibilità del sistema pensionistico bisognerà stare attenti dice poi che il loro obiettivo è la riduzione del rapporto tra debito e pil dice che per quanto riguarda la cosiddetta pace fiscale che poi diciamoci la verità adesso loro hanno introdotto queste novità nominalistiche ma la pace fiscale sarebbe il condono che vorrebbero fare però questo condono andrà valutato per quanto riguarda ancora le coperture e tria ricorda che l'articolo 81 della costituzione prevede appunto che le leggi dello stato siano siano coperte finanziariamente quindi anche lì sottolinea che qualsiasi cosa si voglia fare penso per esempio alla flat tax bisognerà verificare quelle che sono le coperture dice che non vuole non vogliono fare crescita in deficit dicono dice che bisogna fare delle riforme e agire sul piano dell'offerta quindi creando condizioni favorevoli per gli investimenti e per la crescita dell'occupazione dice che bisogna tenere i conti in ordine e dice attenzione bisogna tenere i conti in ordine perché questo va fatto non tanto non solo perché ce lo chiede l'europa ma perché noi dobbiamo tenere alta la fiducia sul sistema finanziario italiano sulla stabilità dell'italia appunto lui nell'intervista dice si capisce che ci possono essere turbolenze sullo spread perché quando c'è un cambio di governo ci può essere dell'incertezza ma attenzione noi siamo un paese finanziariamente stabile l'unico rischio che corriamo quello che i mercati perdano fiducia in noi e che quindi questo possa causare problemi come quelli che abbiamo visto sullo spread in questi giorni quindi ancora una volta come dire una annotazione estremamente interessante quindi diamoci una calmata ecco se per così per così dire un'altra cosa che sembra dare uno schiaffo in faccia al movimento 5 stelle è la riaffermazione da parte di tria della validità degli investimenti infrastrutturali degli investimenti pubblici in grandi infrastrutture e quindi la tav la tap penso tutta una serie di grandi opere che sembrano essere fuori dal programma di 5 stelle tria dice ma quando mai gli investimenti pubblici sono importanti servono a rilanciare la domanda servono anche a far partire gli investimenti privati quindi evidentemente che che ne pensi la castelli toninelli evidentemente queste cose secondo tria bisogna bisogna farli appunto il debito è sostenibile ma ci vuole fiducia poi passa la parte europea per dire che lui visto che il ministro dell'economia Scholz il tedesco ha detto che al tema del debito italiano debbano pensare gli italiani lui dice ha ragione noi pensiamo anche che l'unione europea sostanzialmente bisogna parlare con i nostri alleati e i nostri soci dell'unione europea non bisogna andare a brussell brandendo delle minacce quindi non dobbiamo riceverne ma non dobbiamo farne e questo sembra chiaramente un messaggio a salvini sostanzialmente ovviamente dice non dobbiamo creare nessuna operazione che sollevi allarme che crei delle profezie che si auto avverano quindi non ci deve essere niente diciamo nessuna nuova struttura come qualcuno ha proposto come forse da parte tedesca sulle economie europee meno solide perché questo potrebbe creare appunto un'impressione nei mercati di sfiducia ancora una volta torna sul tema della fiducia e poi nega la volontà di diciamo chiudere i debiti della pubblica amministrazione attraverso l'emissione di questi mini bot quindi di questa sorta di valuta parallela che molti considerano essere una sorta di anticamera dell'uscita dall'euro quindi una sorta di nuova lira che verrebbe fatta per pagare i debiti della pubblica amministrazione dice no questo sarebbe un provvedimento tampone del tutto inutile bisogna fare sì che la pubblica amministrazione paghi in tempo ma smentisce anche quello e l'ultima cosa che smentisce a riafferma molto importante la validità della riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo quella che abbiamo fatto noi quindi dice ancora appunto che quella va bene che non si toccherà che comunque il governo non ne sta parlando e l'ultima cosa per quanto riguarda cassa depositi e prestiti ritiene come riteniamo anche noi che debba restare fuori dall'ambito della pubblica amministrazione anche perché se la cassa depositi e prestiti lavorasse proprio all'interno come una parte del pubblico questo causerebbe il probabile consolidamento dei conti della cassa depositi e prestiti nei conti dello Stato e quindi un aumento sensibile nei calcoli del nostro debito pubblico e quindi anche lui dice di no anche su questo eravamo d'accordo quindi davvero è un'intervista che lascia un po' sorpresi e capisco che in questa grande incertezza quindi con un presidente del consiglio che come abbiamo visto sostanzialmente non dice niente perché se non preventivamente autorizzato non è in grado di esprimere una singola opinione neanche su cose nette ed evidenti come il fatto che l'Italia in una situazione di protezionismo andrebbe male che balbetta sulla Russia dice una cosa poi ne dice un'altra con Salvini e Di Maio che fanno campagna elettorale anziché governare si capisce che dalla riunione dei giovani imprenditori che si è tenuto a rapallo siano venute delle grandi perplessità in particolare quelle espresse da Enzo Boccia da Vincenzo Boccia il presidente di Confindustria che ha detto basta con gli slogan cominciate a governare tenete conto che i dazzi sono un problema perché per esempio di questo parlavamo ieri un eventuale dazio sull'automotive quindi sulle automobili anche tedesche in realtà colpirebbe l'Italia perché la componentistica è spesso italiana in gran parte le macchine tedesche sono fatte anche di pezzi italiani e quindi diciamo Boccia ha riportato secondo me il discorso a un livello più pratico sottolineando che davvero chi si occupa di economia in Italia chi fa l'economia reale del nostro paese in realtà a distanza di 10 giorni dall'inaugurazione del governo ancora non vede nulla muoversi aggiungo io che come sapete le commissioni parlamentari non sono ancora state messe in condizione di partire perché viceministri e sottosegretari non sono ancora stati nominati il governo ha giurato il primo di giugno oggi il 10 di giugno il governo non è ancora completo questo perché loro dicono che le poltrone non contano ma evidentemente sono bloccati da una questione puramente di poltrone che paralizza il lavoro del parlamento e quindi questa è la situazione io credo che ci sarà da fare opposizione e sarà un'opposizione sui fatti sulle cose che vi stiamo raccontando che vi sto raccontando io in queste mie dirette ribadisco con oggi si aggiunge un ulteriore tassello quello di un ministro dell'economia che sembra dire delle cose che a me sembrano di sano buonsenso ma che di fatto impediranno se mantenute la realizzazione del programma del nostro governo è una notizia diciamo piuttosto importante per una sonnacchiosa domenica di un pomeriggio di fine primavera ma io ve la consegno e vi do appuntamento a domani alle ore 14 quindi un pochino prima rispetto alle normali 14 e 30 vi aspetto sempre qui sulla pagina facebook e vi saluto ricordandovi ancora di condividere questo video ci vediamo domani buona domenica a tutti buona serata